Una bella, originale, forte iniziativa. Abbiamo questa nave con questi artisti, sempre bravissimi, meravigliosi, che diventano ambasciatori della musica napoletana, quindi della nostra città, e attraverso il loro talento, la loro passione di interpreti e anche attraverso la conoscenza della storia culturale grandiosa di questa città, non solo offre una grande occasione di intrattenimento a chi si gode la crociera e quindi si gode anche loro, ma soprattutto permette di avere, di moltiplicare questi ambasciatori e quindi le centinaia e centinaia di crocieristi a loro volta diventeranno nuovi messaggeri e nuovi protagonisti di un grande invito a venire a Napoli e a vedere direttamente le bellezze della nostra città.